Marilena Gisonda, classe 1985, psicologa. Sei qui nella veste di futura mamma. Quanto è precaria la vita di una futura mamma? È precaria come tutte le figure attuali. Semplicemente c'è un'unica certezza che dal momento in cui il test di gravidanza ha le due lineette rosa, sei mamma per sempre. Dai, di la verità. La prima cosa che hai pensato è stata, speriamo di non ingrassare molto. Ti dico la verità, è stata la seconda cosa a cui ho pensato questa. La prima è stata un'altra. Sì, ci si sente un po' bruttine al cospetto delle altre donne quando si è incinte. E questa è una frase ricorrente fra le future mamme. Anche a te è capitata la stessa cosa? No, non è affatto vero. Magari inizialmente si può pensare così, ma poi quando la pancia cresce ti rendi conto solo di essere più bella. La voglia di cibo più strana che hai avuto? Non ho avuto voglie strane in realtà. L'unica cosa strana è che ho desiderato la pasta proprio da grande golosa, quindi questa era strana. La prima cosa che hai pensato quando hai compreso di essere entrata nel club sempre più ristretto delle future mamme? Ho pensato che fosse il regalo più bello che la vita potesse farmi. Mi sento un po' un ginecologo. Maschio o femmina? Femmina. Hai già pensato ad un nome? Ne abbiamo pensati tanti, ma alla fine abbiamo scelto di continuare la tradizione e abbiamo messo il nome della nonna. Anzi, metteremo il nome della nonna Anastasia. Pronta alle notti insonni, ai pannolini, alle pappette, oltre che continui rifiuti di collaborazione di tuo marito? Pronta alle notte insonne, ai pannetti, alle pappine, a tutto quello che ci sarà da fare, meno alla mancata collaborazione del marito. La tua reazione al sesso del nascituro è stata diversa rispetto a quella di tuo marito? Io ti favo femmina dall'inizio, quindi io sono andata in estasi quando ho saputo il sesso. Mio marito penso che andrà in estasi quando nascerà la piccola. Ti ha chiesto la doppietta già? La tripletta, veramente. Il tuo primo ricordo da bambina? Ricordo me che osservavo mia madre mentre si truccava allo specchio. Il regalo che più è desiderato da bambina? Credo un animale domestico. La prima cosa che comprerai a tua figlia? Mi ripeto, siccome in realtà ce l'abbiamo già, un cane bellissimo, non lo comprerò, ma sarebbe stato questa la prima cosa che avrei comprato a lei, perché credo che un bimbo o una bimba che crescano con un cane abbiano una marcia in più, delle risorse in più. Italia ha crescita zero. Negli anni 40 e 50 le famiglie erano più numerose e il reddito pro capita era più basso rispetto a quello di oggi, nonostante nel 2000 siamo entrati in piena crisi e in piena recessione. La voglia di non proseguire sulla strada dei nostri genitori e di creare una nuova famiglia è colpa solo della crisi? È colpa sicuramente della crisi, ma anche della mancata messa in discussione dei giovani di oggi e quindi la mancata preparazione dal punto di vista professionale. Il desiderio di un figlio va di pari passo con l'amore per il proprio marito o una donna può desiderarlo anche senza avere un compagno? Infatti, credo che una donna o un uomo possano desiderarlo indipendentemente dal proprio compagno di vita, tant'è che ci sono uomini o donne single che scelgono di avere dei figli in maniera non naturale. Però sicuramente una persona coscienziosa aspetta l'amore, aspetta il proprio partner per concepire poi una vita. Sfatiamo qualche falso mito sulle gravidanze. Sei pronta? Prontissima. Il desiderio di intimità cala vertiginosamente. Falso. Si fa molta più pipì del solito. Vero. Si ha un rapporto paritario con i vasetti di Nutella tutte le ore del giorno. Volendo sì, ma si cerca di fare attenzione, insomma. Si ci alza malvolentieri dal letto la mattina. Falso. Non si ha voglia di stare in piedi. Falso. Si perde più facilmente la pazienza con il marito, tanto da desiderare di stringergli le mani intorno al collo, ma forte, ma forte. Verissimo. Quanti chili hai messo ad oggi per la tua gravidanza? Non è elegante chiederlo. Lo so, ma noi siamo a vite rinviate, insomma. Quindi dobbiamo anche fare il nostro lavoro. Eh, undici. A otto mesi. Per la questura quanti? Sette. La prima canzoncina che le dedicherai, mentre la terrai in braccio. Non te la canterò mai, sappilo. Anche perché non lo so, non le conosco, non le ho imparate. Mi prendo ancora due mesi di tempo per impararle. Quando hai saputo di essere incinta? Hai pianto? Emozione. Emozione. Pianto dirotto no, ma molto emozionata. Qualche lacrimuccia, sì. Una curiosità, ma un daltonico, quelle due strisce rosa, se non capisce che colore sono, è un dramma. No, perché se non sei incinta è solo una, quindi non ti puoi sbagliare. Telefonami fra vent'anni, io adesso non so cosa dirti. Sei pregata di non ridere perché, insomma, è una canzone meravigliosa di Lucio Dalla. Cosa vorresti dire a tua figlia tra vent'anni? Le direi che gli errori fatti in questi vent'anni sicuramente non sono stati fatti per danneggiarla, ma in buona fede. La buona fede è che hanno tutte le mamme nei confronti dei loro figli. Il nostro motivo di orgoglio è che l'amo già da impazzire. Grazie. 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 Grazie.